buongiorno ragazzi benvenuti in questo nuovo video siamo qui vi dico buongiorno intanto perché sto registrando questo video di mattina e dai siamo qui su marcia dei campioni per aprire qualche cristalluccio che ho accumulato ultimamente in questi ultimi giorni e anche poi per iniziare una delle missioni delle ristampe che piano piano cercherò di completare tutto al 100% partirei poi non vedo l'ora di aprire nei prossimi episodi questo cristallo qui il cristallo tomba di ferro del gran maestro perché si può trovare comunque degli eroi 5 stelle che non è niente niente male comunque partirei andando ad aprire questi cristalli cristallo individuale maggiore aprendo quelli grandi ne vado ad aprire il più possibile quindi immagino 3 e poi ci apriamo anche uno di quelli minori giusto sì ce l'abbiamo e per 50 schegge potremmo aprircene anche un altro ma vabbè va bene così li apriamo molto veloci così andiamo subito a fare poi la mission cina tanto questi che sono leggeri come cristalli qui cosa abbiamo qui abbiamo un quattro stelle vediamo un pochino che possiamo trovare chi troviamo vai questo lo facciamo girare questo lo lasciamo andare da sé chi vediamo un pochino là sotto là c'è spider nel maiale poi visto l'uomo roccia c'è l'uomo cosa scusate hulk che è quattro stelle sarebbe buono un chigliottino qualcuno magari da doppiare non c'è li di miei molto che ho già potenziati di da doppiare non ce n'è perché si ferma qualcuno di nuovo qualcuno che si doppia uu colos uu mi piace void so che è forte so che se lo potenzio void è forte ci può stare mi piace mi piace cercherò di potenziarlo allora mi piace ammetto che voi mi piaccia abbiamo cinque cristalli eroe premium che io andrei subito ad aprire e li apro così di botto tanto ormai questi qui li apriamo così fatele tenere di vabbè un doppio quattro stelle che non è male perché città comunque scheggi cinque stelle e siamo a 6.000 su 10.000 che vuol dire che tra poco se ne potrà aprire un altro e sarà il mio terzo tre stelle devo semplicemente per fare qualche missione al cento per cento di quelle molto buone e dovrei riuscire se mi levasse tutti sti ok grazie che altri che sapete due cristalli tre stelle molto easy altre schegge quattro stelle probabilmente così fatti entrambi doppiati buono buono e anche del buon iso iso bello grande che mi può servire poi per i potenziamenti allora poi qui abbiamo completato quindi tutti i nostri cristallucci andiamo ad aprire invece questi qua che sono quello lì delle schegge schegge cristallo tre stelle poi i prossimi sono cinque altri cristalli eroe premium che noi andiamo ad aprire li apriamo tutti e cinque anche qui magari un altro quattro stelle no peccato però un nuovo misterio che da quanto pare non ce l'avevo tutti questi cavolo di proposte di cioè pubblicità vabbè di di comprare comprare non voglio comprare nulla vabbè quelli dell'oro i cristalli con un po d'oretto che comunque abbiamo due milioni e mezzo che ci bastano per potenziare abbastanza vabbè abbiamo anche quello giornaliero questo che mi può dare delle cure infatti mi ha data una e quello giornaliero che ho completato l'atto tre quindi di livello tipo tre un catalizzatore livello uno però comunque di grado uno comunque un catalizzatore i prossimi cos'è che installo eroe nexus quattro stelle questo lo facciamo a girare chi troviamo quattro stelle più eroe nexus chi posso scegliere allora posso scegliere tra questi tre e io devo dire che quasi quasi anche se ho già massacre scusate massacre piglio lui perché ho visto che c'è una speciale tipo uno che fa malissimo quindi mi piglio lui che non ce l'avevo e lo proverò a potenziare anche lui magari per usarlo in qualche battaglia ci sta ci sta un altro cristalleroe tre stelle molto easy goblin dando avanti abbiamo nove cristalli delle pietre evolutive grado 3 buone così possiamo potenziare un po' comunque i nostri campioni e abbiamo anche due di grado 4 cioè di quattro stelle scusate che sono comunque direi più che ottimi poi cristallo cos'era non ho letto il nome uguale 300 schegge cristallo ore 4 stelle e 6.000 di oro poi cristallo grado 3 catalizzatore che comunque può essere molto utile poi abbiamo otto cristalli che ci consegnano altri frammenti di catalizzatore altri diciamo pezzi di catalizzatore cristallo catalizzatore grado 2 con comunque altri catalizzatori andiamo avanti cosa abbiamo? abbiamo 23 cristalli missione perché sto andando sempre di più avanti per completare al 100% tutte le missioni della storia queste qui sono ottimi perché danno un po' di iso semplice però danno anche delle energie e se sei fortunato anche molte molte unità l'ultimo 18 cristalli bonus cioè bonus arena che io non uso mai quindi alla fine mi vanno così in più andrei subito a vedere i miei quindi nuovi campioni già come sono di rating base ho sbagliato a cliccare qui davanti ho una bella tazza di tè che si sta infondendo che presto faccio colazione appena finisco il video poi preparo velocissimamente il video mentre faccio colazione e ve lo pubblico subito subito tipo tra un'ora massimo un'ora e mezza da quando lo sto registrando tipo voi lo vedete per le 8 barra 9 io lo sto registrando verso le 6 e mezza 7 perché mi sveglio sempre abbastanza presto allora vediamo un pochino dov'è il nostro vedi già lui è un rating molto alto già di base anche il nostro void quello che faccio è potenziarli subito almeno al livello massimo del primo grado e se riesco li potenzio già oltre posso? si posso io sto cosa qui la levo e vi potenzio con quelli che voglio io perché se no qui mi va a sprecare quelli buoni mi vado a trovare piuttosto quelli magari del tuo richiedi max direi che mo con questi già cresce molto più rapidamente e anche un ottimo rating e vedo abbiamo anche tre ricompense che mi vado subito a raccogliere vediamo un pochino un po' di oro un altro po' di cristalli che poi mi aprirò io abbiamo un bel po' di iso qui da parte che noi andiamo adesso a già utilizzare un po' oh perché non me lo trova ok aveva mantenuto il filtro normalmente non lo faceva adesso a quanto pare tiene i filtri se li lasci mettiamo lì tutti questi noi cerchiamo sempre di sprecare nel meno possibile ed eccolo qui ci manca soltanto uno grado 3 che vabbè sarà facilissimo tenerlo quindi si potrà potenziare tranquillamente e già mi è salito molto molto ed è finito praticamente dove è finito lì ottimo per esempio hood è alla fine del grado 3 giusto? rango scusate rango 3 si rango 3 invece lui è al rango 2 questo dovrebbe essere rango 1 ma comunque adesso dobbiamo potenziare void che come ho detto è molto forte infatti vorrei anche provare magari utilizzarlo vai che lo potenziamo subito e lo potenziamo ancora andiamo a raccogliere qui quelli del suo stesso colore richiedi max più richiedi max allora ci mettiamo tutti i suoi ovviamente più tutti questi andiamo a togliere quelli piccoli e cerchiamo di fare una cosa tattica per usarne il meno possibilità così vai e mi sale a 1829 molto buono quindi con 7500 e possiamo uh avessi un catalizzatore in più potrei potenziarlo già eh ce l'ho posso pegliarlo un catalizzatore qui si che ce li ho vai ragazzi quasi quasi questo qui è più un episodio di potenziamento che è un episodio dove andremo a fare più missioni eh già comunque richiediamo altro iso eh già il nostro void lo si fa crescere molto rapidamente così mi dovrebbe arrivare quasi forse sui 2005 di rating alla fine lo mettiamo per valore iso così ci pigliamo quello peggiore e poi vabbè alla fine ci toccherà pigliare anche quello purtroppo degli altri classi per esempio guardate lì di di questi pigialli cioè di di mutante quanti ne abbiamo mi spiace un pochino utilizzarli tutti piuttosto facciamo così e leviamo questo vediamo un po' a fare infatti 2500 e 10 mi manca soltanto questi catalizzatori ehm grado 4 che non sono facili da ottenere ma ci si può provare ci si può provare vediamo un pochino da già dove mi è finito come rango vedete che è poco dietro a sinistro che per potenziarlo vedete anche lui mi richiede molti catalizzatori comunque vediamo un pochino lì quanto ha 10 e 6 e 7 e 32 void mi ha 10 e 7 e 6 e 50 quindi leggermente più di danno il nostro carro invece lui ha meno vita però fa più danno sono molto buoni e hood invece ah ho sbagliato volevo vedere le info ha media vita e medio danno ci sta ci sta vabbè da dire che questo qui magari è un video un pochino più corto soltanto di potenziamenti di eroi e valutazione nel prossimo andiamo a fare le missioni magari quelle lì per le ristampe a vedere un pochino come sono vai apriamo due di questi cristallucci apriamo l'ultimo che abbiamo trovato prima che era bietra evolutiva se non sbaglio e sapete cosa vi dico abbiamo 2360 unità io normalmente non le spendo mai infatti vedete che ne ho accumulate molte ma a spenderne 300 per provare uno di questi lo faccio forse troviamo un 5 stelle oh cosa ne sai facciamolo girare io non lo tocco si può trovare un 3 o un 4 o un 5 stelle non ho guardato le possibilità io spero che mi venga un 5 stelle che sarebbe buono però non ne sono ovviamente sicuro si spera vediamo un attimo come si gira la fortuna che abbiamo anche di 5 stelle per esempio vedo dei buoni titoli lì sotto un dai un affambagno dai cavolo mi sei passato davanti a 3 buonissimi 5 stelle e poi mi dai sta schifezza vabbè abbiamo concluso il video con una delusione dai vabbè ragazzi è stato bello fare quest'altro video noi ci vediamo al prossimo dove cercherò di andare avanti con delle missioni e andremo avanti anche insieme comunque per questo video che sto registrando molto presto molto presto adesso le 7 e voi lo vedete tra una letta a me non resta che dirvi praticamente ciao ragazzi a me non resta a me non resta